E sono contento di essere con voi qui alla ripartenza. Grazie mille, grazie mille Filippo. Perché appunto mi chiamo adottare alla ripartenza? Perché tu, tutti i giorni, come si dice una volta, tutti i giorni che Dio manda in terra, scrivi su LinkedIn di lavoro, no? Da quanti anni ormai? Eh, guarda, iniziò tutto il 5 maggio del 2017. Quindi, insomma, tanto tempo, tanto impegno, tanta passione e tantissime persone che ho incontrato, che ho conosciuto. Fabio, una straordinaria opportunità. Ma soprattutto, insomma, non è che scrivi e basta. Scrivi e sei super seguito anche, però. Perché molti ti seguono, molti poi ragionano anche sui tuoi spunti, che sono sempre spunti molto interessanti, perché, insomma, non sono buttate lì così. C'è un grande lavoro anche di ricerca della notizia e di cosa raccontare. Poi il mondo del lavoro, insomma, è un mondo dove c'è sempre comunque tanto da dire e che è sempre un'evoluzione, soprattutto. Ma guarda, io ho fatto, insomma, posso dire, adesso ho iniziato a fare il cronista nel 97 e ho parlato, ho lavorato per quasi 33 state, insomma, ho parlato di tante cose. A fare il cronista si parla soprattutto, ahimè, di brutte notizie. Allora, quando io ho deciso di iniziare questo racconto quotidiano, ho detto, beh, parliamo delle buone notizie. E, peraltro, insomma, mi ha onorato Wiki Milano, che mi ha indicato, no, tra i loro, tra i loro, insomma... Novità di quest'estate, ma sono entrato nella Hall of Fame milanese. Guarda, questo qua certamente mi ha onorato, però è stato allo stesso tempo un, diciamo, come si può dire, un alert, un avviso. Cioè, mi hanno detto, guarda che ti seguiamo e quindi abbi cura di noi. Hai presente? Ti ricordi l'orsettino, no? Mi sembra Paddington, come si chiama? L'orsettino c'era scritto abbi cura di me, di noi, insomma. Ecco, e quindi io cerco quotidianamente di avere cura delle altre persone. Lo vivo come un dono, no? La PR diceva, quello che non doni andrà perduto. Insomma, io cerco di fare questo qua. Senza polemiche, pensando più che agli utili, all'utile sociale. Questa è un po', così, la mia missione che mi sono dato, la mia proposta di valore. Mi piace molto Mario Calabresi. Quest'estate, tu parlavi prima delle vacanze, anch'io, insomma, mi sono preso dieci giorni. Ho letto, ho riletto il libro di Calabresi come, come, mi sembra, come si tiene accese le stelle. Una cosa così deve essere questo titolo. Insomma, lui parla della prospettiva positiva. Ecco, anch'io, io sono per il mezzo pieno e invito tutti a unirsi con noi a questa rete del mezzo pieno. Insomma, la cultura delle lamentele è al tempo, insomma, deve essere messa a tacere. Cosa tiene accese le stelle? Sì, cosa tiene accese le stelle, bravo, bravissimo. Che ti ha colpito quest'estate, però, insomma, tante altre sono le notizie che quest'estate ti hanno colpito e che ti hanno fatto raccontare, no, anche di Milano e di milanesi, importanti. Ecco, una di queste state, Filippo. Eh, una è stata, guarda, qualche giorno fa, se non sbaglio, il 2 di settembre, il premio dato a Giorgio Armani, il leone d'oro di vetro di Murano, dato dal sindaco di Venezia a Giorgio Armani. Beh, mi ha molto colpito perché è uno stilista che seguo io, come tantissimi altri, e aggiungo, ragazzi, non ha mai venduto la sua azienda, tanti investitori hanno bussato alla sua porta, lui in nome della italianità, ma diciamo pure della milanesità, anche se lui è di Piacenza, insomma, comunque non ha mai ceduto alle lusinghe dei soldi. È detto una cosa interessantissima, perché appunto noi parliamo sempre di milanesità Giorgio Armani, che in realtà non è di Milano per niente, ma forse incarna proprio il vero milanese, che è quello che non nasce necessariamente qui, ma qui fa grandi cose, no? Ma guarda, Giorgio Armani è una persona straordinaria, una persona di una semplicità, io ho avuto anche l'occasione di incontrarlo. In una passata vita andavo spesso, per ragioni di lavoro, ad Assago e lo incontravo alle partite di basso. Una volta mi avvicinai a lui, era da solo e lo salutai, lui mi disse buongiorno e la ringrazio. Io dico perché maestro mi ringrazia? Perché qualche volta le persone mi guardano e hanno paura di avvicinarsi, no? Di relazionarmi con me. Invece io sono una persona, insomma, e lo è, una persona di grande semplicità. Ecco, a me piacciono le persone semplici. Si è grandi nella semplicità. E questo è quello che ci insegna Giorgio Armani. Quindi benvenuto questo premio a lui, come appunto Leone d'Oro di Vetro di Murana, appunto. All'inizio. Veramente bello questo anno di tutto, lo sono Giorgio Armani. Non me l'aspettavo, posso dire. Non me l'aspettavo. Sì, sì. Invece ti chiedo questo. Allora, domani ne aprono le scuole. È un tema sempre molto caldo quello della scuola. Anche sempre con tante polemiche. Adesso inizierà il problema sicuramente degli insegnanti che mancano, i sentiti di sostegno che mancano. Ma non è solo quello. E anche a volte è proprio un problema anche di numeri, di ragazzi che non hanno le scuole di quartiere più, perché sono state chiuse, perché c'erano troppo pochi iscritti. Altre scuole invece con troppi iscritti. Quindi il mondo del lavoro invece su certe situazioni riesce a trovare delle soluzioni in questo, no? E tu l'hai raccontato proprio, no? Questo stato. Ma sì. Allora, anzitutto partiamo da una cosa. Inizia la scuola. Un tema a me molto molto caldo, caro Lorenzo e caro Fabio. Perché? Perché io sono stato un insegnante. Il mio primo lavoro era insegnare alla scuola media. Quindi il mondo della scuola mi appartiene, anzi direi che mi sento ancora uno di loro, uno di quei ragazzi che, vedete, i ragazzi hanno qualcosa di straordinario, ti guardano, si entusiasmano e non riescono a fingere, non riescono a mentire. Questo è il bello di un'aula scolastica. Ecco, inizia una scuola, un anno scolastico, direi anzitutto con la passione degli insegnanti. Vedevo oggi dei titoli, mancano, per esempio, nella cronaca di Roma, mancano gli insegnanti. Diciamo anche che ci sono degli insegnanti. Parliamo anche di questo, del mezzo pieno. Ci sono degli insegnanti che non vedono l'ora di rimboccarsi le maniche. Certo, inizia con un conto salato. Abbiamo visto l'aumento dei libri, l'aumento dei trasporti, l'aumento della cancelleria. Alcuno ha detto il 10%. Anch'io sono un genitore, due figlie, che inizieranno la quinta e la terza superiore. Sicuramente è un conto salato. Poi c'è anche qualche bella iniziativa. Certamente, non so, i Lions hanno riattivato l'iniziativa dello zaino sospeso. Poi ce ne sono altre, come citavi tu. Io ne ho citata una quest'estate che ha fatto un milione di visualizzazioni. L'iniziativa di Allianz. Che cosa ha fatto? Durante l'estate ha aperto quello che è Allianz for Kids. Insomma, questa iniziativa è nata nel 2018. non solo ai ragazzi delle elementari, ma anche delle medie. Cosa hanno fatto? I ragazzi delle elementari sono stati accolti nella loro casa, la casa Allianz a Milano, i ragazzi delle medie nei diversi centri sportivi di Milano. Insomma, direi una bellissima iniziativa. Ricordiamoci che accanto a dei figli, degli studenti, ci sono dei genitori che hanno delle esigenze, no? e che lavorano. E quindi conciliare vita lavorativa e vita a scuola dei propri figli non è sempre facile. Anche perché poi gli orari non collimano mai. C'è da andare a parlare con i professori quando però tu hai l'accollo importante in ufficio. C'è da andare a portarlo dal dottore quando tu però in ufficio hai da fare le chiamate per vendere. Insomma, non è facile, no? Eh, non è facile. Guarda, su questa Autostrada per l'Italia ha fatto una bellissima iniziativa nazionale, e quindi che riguarda anche Milano, ci ha detto domani, domani il 12 di settembre, Milano inizia la maggior parte, iniziano la maggior parte delle scuole, ha detto, ecco, domani ai dipendenti i cui figli iniziano la scuola, quindi in prima elementare, diamo due ore di permesso. Io ho trovato una bella iniziativa. Qualcuno ha polemizzato. Ma perché dobbiamo polemizzare sempre, ragazzi? Cioè, è una bella iniziativa. La scuola è importante per i figli e dico io, da papà, è importante anche condividerla con i figli. Per cui, diciamo così, un applauso Autostrada per l'Italia. Non lavoriamo per Autostrada per l'Italia, si può fare oggi. Anche perché te lo ricordi, il primo giorno di scuola, lo dico da 24 anni, quindi magari ho la memoria che è ancora abbastanza fresca, ma il primo giorno di scuola con i genitori te lo ricordi. Ecco, sì, no, il problema è che ultimamente quel primo giorno di scuola diventa la prima settimana, perché insomma, c'erano queste cose dove c'è, come è che l'adattamento, come è che fanno, che in prima elementare ci metti un mese per iniziare. Comunque, ecco, forse quello è un po' esagerato dall'altra parte, però è interessante questo e anche altre aziende so che poi hanno dato dei congedi familiari apposta appunto per poter seguire meglio i propri figli. Filippo, rimani qui con noi, siamo sempre con la radio, quindi un po' di musica adesso e poi continuiamo, torniamo qui insieme a Filippo Poletti, mondo del lavoro, se avete domande, 331-78-535-55-5. Dicevamo, parlavamo di scuola, di ricominciare la scuola che insomma, non è solo per i piccoli bimbi, non è solo per gli studenti, non è solo per i grandi che iniziano l'università a breve nelle prossime settimane. Lo è per gli insegnanti. Lo è per gli insegnanti. Da ragazzo ancora giovane, diciamo, io ci tengo tantissimo La sindacalista nell'animo. A sottolineare l'importanza di professori bravi a cui piace fare quel lavoro, che secondo me è veramente uno dei più bei lavori perché sei immerso nella dinamica di quella situazione e quindi riesci a viverla molto più di qualsiasi altra persona che invece crede. Dovresti essere immerso nel presente, in un certo senso, no? Sì, Filippo, hai avuto modo di sperimentare questa carriera? Ma sì, guarda, i ragazzi, oggi si dice una parola tra i ragazzi molto giovani, si dice sei on fire, la dicono tantissimo. sei on fire. La diceva anche Bruce Springsteen. La diceva Bruce Springsteen. Però loro tutti sei on fire, cioè come dire, sei carico, eccetera, è bellissimo, hanno questa energia, questa voglia di fare e io me le ricordo, questi occhi, ti dirò, questi occhi lucidi, ti dirò che quando ho finito l'esperienza della scuola, quel giorno lì, mi misi a piangere con i ragazzi, mi viene ancora da commuovermi perché vedi, dicevo prima, i ragazzi non mentono, i ragazzi sono così e soprattutto i ragazzi non mentono in classe perché un insegnante che non riesce a tenerli è un insegnante per loro di serie B e insomma lo asfaltano come fossero dei caterpillar. Quindi insomma, benvengano insegnanti appassionati. Torniamo al lavoro però, mi volevi, prima Forrianda mi raccontavi di aziende virtuose, ci sono tante aziende virtuose, mi hanno citato il caso di Hansa, io ne cito un altro, milanesissimo, cioè il caso di Prismian, Prismian è un'azienda milanese che fa cavi, E cosa hanno fatto loro? Hanno detto, a proposito di figli, Ponale, sono una zona ponale mi sembra, sono proprio fermata della metro anche, esatto, loro hanno detto, bene, le mamme che appunto, le donne che diventano mamme hanno 90 giorni giorni di congedo facoltativo, attenzione, retribuita al 100%, e questo si aggiunge ai 5 mesi di appunto, maternità obbligatoria, anche qui pagata dall'Ipsa all'80%, che loro pagano al 100%. Cioè ci mette i soldi l'azienda stessa, ci mette i soldi l'azienda, e si dice, insomma, la maternità è un momento importante, noi vogliamo sostenerla, quindi io dico, benvengano queste iniziative, e faccio anche una polemica, posso farlo? Quest'estate abbiamo visto l'uscita di questo libro del generale Roberto Vannacci, ecco, a me non piacciono i ritratti a zebra della vita, non mi piacciono, non mi piace il ritratto o bianco o nero, io credo che anche nel nero ci siano così come nel bianco, ci sono tantissime sfumature, e quindi quello che noto oggi è che i media sono o bianco o nero, soprattutto stanno dando tantissimo risalto a tutto quello che non è insomma, la famiglia tradizionale, ora, io cammino tutti i giorni per Milano e non solo, e vedo tante famiglie tradizionali, allora, non vorrei, cari amici, che la famiglia diventasse il panda dei media, quindi, in sostanza, di stare attento perché già usare, ecco, il problema dei media qual è? Che già usare la parola famiglia tradizionale basta, ti abbiamo incasellato, schierato da qualche parte, abbiamo deciso che stai là da qualche parte, invece di di essere una cosa normale, di essere una parola come tante altre che potresti utilizzare. Io dico libertà a tutti, ma libertà anche, e come lo stiamo facendo noi, alle belle notizie, ai figli, alle mamme, ai papà, racconto di tutti, non polarizziamoci da una parte o dall'altra. Non ti sembra, forse, che qui proprio il problema siano i media, non tanto le famiglie, non tanto noi, non tanto le persone comuni che possono tranquillamente discutere apertamente di famiglie più o meno allargate, più o meno tradizionali, più o meno moderne, e invece i media tendono sempre a incasellare tutto. Sì, sì, tendono a incasellare e io mi chiedo anche, ma quali sono i risultati di ascolto? Io faccio il caso del piccolo Filippo Poletti, il piccolo Filippo Poletti fa oltre 3 milioni di visualizzazioni al mese con buone notizie. Non parlo, non, come dire, non ho toni aggressivi, voi parlavate della gentilezza, tu parlavi della gentilezza in Giappone, ma ben venga la gentilezza, abbiamo parlato della gentilezza di Armani, così, insomma, non parlo di toni aggressivi, non mi piacciono i dibattiti sterili e c'è un sacco di persone che si uniscono a questa rete. Noi siamo nel paese in cui buonista è diventato un insulto, cioè essere buoni è un insulto a quel punto, capisci? Che diventa un problema. Ma è quel circolo lì che si autoalimenta con benzina e fuoco. Eh sì. Perché il fatto che appunto sulla famiglia tradizionale si imidia, ma anche da una parte e dall'altra è diventata una bandierina identità, di fazioni politiche appunto da tutte e due le parti in maniera totalmente, cioè mi permetto di dire, con un valore superiore rispetto a quello che... Cioè ci sono anche tanti altri valori. Molti hanno chiamato l'effetto Netflix, no? Quello di dover per forza inserire certi tipi di categorie apposta, avulse quasi dalla storia del film o della telefilm in quel caso, solo perché dovevi rappresentare una certa idea a quel punto ideologica dovuta da quello che invece poi magari benvenga invece che venga in altre situazioni. È una roba formale non sostanziale. È una roba formale ma non sostanziale e che è complicato perché in questo momento qualcuno potrebbe tiacciarci di dire che non siamo aperti, che non siamo a favore dell'arcobalino quando invece sappiamo benissimo tutt'altro qui anzi a Milano News ne facciamo una bandiera. Stiamo quasi in conclusione un minuto e mezzo tutto tuo. Ma allora guarda direi che siamo qua e ci prepariamo a vedere un derby straordinario siamo qua davanti allo stadio sono passato prima mi sono fatto un selfie insomma io sono milanista io tifo per il Milan ecco dico agli amici ai cugini attenzione a non essere troppo sicuri è vero che nel 2023 le avete come dire vinte tutte queste partite però il Milan si è rinvigorito corre forte ecco Berlusconi direbbe attaccare 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 io dico al Milan difendere 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 non dimentichiamoci che c'è una difesa e poi dico anche che c'è uno stadio nuovo si parla dello stadio ho visto delle polemiche di Bertolino oddio non più il derby a San Siro ma diciamo così facciamo un derby dove abito io a San Donato Milano mi piacerebbe ecco perché tira l'acqua tira l'acqua alla sua cittadina ecco perché ma mi sa che però ormai qua la vedo lunga la vedo lontana e la vedo lunga se ne parla se ne riparla insomma intanto godiamoci questo derby e che vinga appunto il migliore e chissà appunto se poi il prossimo lo vedremo a San Donato oppure sempre qua secondo me io ogni giorno quando apro il giornale quando apro il sito trovo sempre una notizia diversa sullo stadio però vi dico da abitante di fianco di vicino di casa dello stadio 30-40 anni che ascolto queste notizie sono 40 anni che quello stadio deve muoversi da lì e lì non si muove però c'è una bella notizia che è quella dell'avvicinamento delle Olimpiadi è quello lì sì insomma il potere di 5 cerchi la gioia di 5 cerchi anche qui dico sta nascendo un pala Italia un nuovo palazzetto quindi insomma avremo delle nuove strutture che poi dopo ragazzi bisognerà appunto farle vivere dopo il mondiale quindi le federazioni eccetera eccetera dovranno appunto alimentare anche gli sport minori perché ricordiamoci che non so il patinaggio artistico bellissimo Valentina Marcheno la nostra milanese è un'ambasciatrice però dobbiamo aiutare questi sport siamo tutti appassionati di patinaggio artistico bisogna scongiurare l'effetto Torino che Torino bellissimo cioè rilanciato la città ma le strutture sono finite in malora nel giro di un attimo speriamo invece che qua la città è già bella lanciata si rilancia ancora di più città magari con un po' un effetto Expo che ci ricordiamo ci è piaciuto molto ma che soprattutto le strutture nuove che verranno costruite per fortuna pochissime non ci sarà grande costruzione a Milano rimangono invece una grande testimone che va appunto una grande legacy come si direbbe in modo colto una grande testimone che va appunto alimentata e viva lo sport lo sport fa bene fa bene alla testa e appunto e viva i grandi eventi a Milano viva i grandi eventi sempre positivi sempre positivi io aspetto che ritorni anche il Gio d'Italia mi auguro ma so che il sindaco non è molto ma no e ne riparleremo più avanti ne riparleremo Filippo grazie mille della tua presenza grazie e poi diremo che ti ritroveremo spesso e volentieri qui su questa radio volentierissimo siete degli amici io con gli amici insomma faccio di più di più tutto quello che posso grazie mille allora ancora a Filippo Poletti seguitelo su Linkedin poi dove sei su Instagram ovunque su Linkedin e se lo volete dire all'americana Linkedin 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 e invece noi ci fermiamo perché siamo arrivati un'altra mezz'ora è già passata un'ora e mezza da quando siamo iniziati però è primo giorno parla siete stanchi no 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 sei on fire sei on fire on fire allora due canzoni una piccola pausa e poi torniamo subito da voi come dice qualcuno iniziati a a a a a a Grazie a tutti.